Qui ad ascoltare i spedolumici c'era Luigi Locascio che reduce da una straordinaria serie in cui interpreta un magistrato mafioso, uno che potrebbe tranquillamente prendere quei voti. Sì, lui era già preparato prima, però è un'occasione di approfondimento in cella di altre materie. La tua parola di questa sera è la parola sintetica, perché questa settimana si è parlato tantissimo di questo argomento. Il governo ha vietato la produzione di alimenti sintetici, come per esempio la carne prodotta in laboratorio partendo da cellule staminali animali. Il ministro Lollobrigi ha detto che questo tipo di produzioni non garantiscono né qualità né benessere né la tutela della nostra cultura e della nostra tradizione. Tu come ti poni rispetto a questo che è un grandissimo tema, poi per noi italiani più ancora che per altri? Ma mi pongo dalla parte dell'animale che viene salvato dalla macellazione, dal dolore, dalla crudeltà, queste batterie, queste gabbie dove gli animali non riescono neanche a voltare il loro collo. Quindi più che sintetica, mi piace sintetica, direi che è anche una coltivazione di carne. Due personaggi che ci sono in un libro che appunto sto... Eh ma infatti qui arriva. Qui esatto, il titolo già è storielle per granchi. Io ti metti dal punto di vista degli animali. Esatto, cioè appunto io non saprei cosa dire appunto alla scienza diciamo di chi sta al governo, ma loro forse troverebbero le parole... Cosa direbbe il signor Gramsci? Ma se non apparirebbero magari in sogno sul cuscino delle persone che stanno ostacolando questa cosa, gli direbbero... State attenti che nel 2050 sarete 10 miliardi gli uomini e come farete per la vostra carne distruggerete ancora di più il pianeta. Cioè avrebbero degli argomenti. Io sono favorevole, poi bisogna assaggiarla, bisogna vedere quello che succede. Un'altra cosa che direbbe appunto che è sintetica ma è anche coltivata, quindi è un alimento colto, viene fuori da procedimenti che sono stati molto ragionati. Forse il granchio direbbe allo scorpione grattami un po' la nuca che cadono delle cellule staminali per fare un pochettino anche di polpa di granchio. Perché il granchio non pensa soltanto alla carne di manzo ma pensa anche al suo. E forse, diciamo, siccome amano molto anche gli uomini, sia il granchio che lo scorpione, direbbero tutta l'acqua che si risparmia. Perché per ogni 100 grammi di carne ci sono almeno 2500 litri di acqua, a quanto vale dal conto che hanno fatto. Il mare, l'oceano di acqua che si risparmia, lo regaliamo magari ai macellai, che poverini sarebbero gli unici che hanno da perdere in questa cosa, per renderli felici, diciamo, rispetto a quello che danno in cambio. Senti, mi è piaciuta tantissimo questa frase che hai messo in quarta di copertina. Abbiamo intorno un mondo per salvarci ma raramente ci facciamo caso. Sì, perché, sì, insomma, abbiamo le risorse per salvarci. Appunto, l'atteggiamento catastrofista non ha nessun senso. Questo fatto di avere un'anima infinita permette all'uomo di mettere da parte le cose peggiori e andare a pescare invece gli strumenti per migliorarci, per darci una mano, insieme proprio alle altre specie, ecco, insieme agli strumenti e agli granchi. Cosa ne pensate? Avete visto sulla stampa la professoressa Viola, che salutiamo, nostra storica collaboratrice ai tempi del Covid, ha scritto che gli allevamenti intensivi sono un pericolo per la salute dell'umanità intera, quello che diceva Luigi, il resto del mondo andrà avanti e le nostre start-up, se adesso ci blocchiamo, resteranno al palo. Tu Barbara, che mi dici? Io sono d'accordo, anche perché è vero che l'industria agroalimentare italiana è tantissimo in un'industria di trasformazione. Noi importiamo il grano, per esempio, l'abbiamo visto anche durante la guerra, e poi esportiamo tantissima pasta, quindi è evidente che non farebbe del male neanche a quella nostra identità imprenditoriale, culturale, che si vuole salvaguardare con questo disegno di legge. Paolo, tu come lo vedi un salame felino sintetico? Io sono venuto su a prosciutto di Parma e salame di felino e credo che molti miei cittadini all'idea rabbrividerebbero. Però le cose che diceva Luigi Locascio sono condivisibili. Dobbiamo in qualche modo cambiare, perché avanti così non si può cambiare. Io penso, sarà necessario farlo, quindi è inutile. Poi chi chiama il salame, non penso che lo troverà lo stesso, magari. Comunque questo libro di Luigi, che è scritto benissimo, come sempre i tuoi libri, poi ne presentammo già uno, ti racconta il mondo da un altro punto di vista. Sì, è un libro che tende a nuove alleanze, appunto, tra uomini, animali, ma anche cose, fantasmi. Si può stare tutti insieme. Tutto ciò che ci sta intorno.